Musica Questo weekend avremo un impegno molto importante, internazionale, andremo in Nouvellege a giocare una Coppa europea che per noi è un grande onore, orgoglio, che anche quest'anno andiamo a giocare una Coppa perché siamo arrivate seconde l'anno scorso. È un'esperienza molto importante perché la squadra quest'anno è giovanissima e fa bene per tutti noi fare un'esperienza fuori. Noi vediamo l'ora di andare in Norvegia per fare due partite lì, che sarà un impegno comunque importante, ma noi non vediamo l'ora.